Eccomi qui, eccomi qui, perché faccio questo video? Perché ho appena visto The Social Dilemma, cerco di fare la pronuncia fatta figa, e mi ha fatto veramente un po' di cose, un po' di cose interessanti secondo me. Innanzitutto vabbè, un po' l'ipocrisia stessa del documentario per certi versi, in primis perché esce su Netflix, credo sia anche prodotto da Netflix, e fa ridere che Netflix applica esattamente quei principi lì sulla propria piattaforma, dunque tutto quello che va demonizzando dentro, i test, gli AB test, che sono quei test appunto per capire se uno clicca di più su una cosa o su un'altra, il CRO, che è il Conversion Rate Optimization, l'intelligenza artificiale, cercare di portare le persone a guardare una cosa piuttosto che un'altra, tutta una serie di cose, per cui veramente già questo suona un po' assurdo. E un'altra cosa che suona un pochino assurda è il fatto che utilizza, diciamo esattamente come dice il documentario, utilizza l'ignoranza, no? Utilizza l'ignoranza perché fondamentalmente la maggior parte delle persone non sa nulla del mondo digital, e poi questa è la cosa secondo me più interessante, e diciamo le utilizza in questo modo, un po' tipo film thriller, no? Tipo horror, addirittura con la metafora di questi tre uomini che decidono della vita delle persone, no? Che sono la metafora dell'intelligenza artificiale degli algoritmi. Insomma, è tutto un po' così, è un po' diciamo difficile da vedere, almeno per me, per noi addetti ai lavori. È tutto un po' difficile da mandare giù, perché poi affronta alcuni argomenti in maniera superficiale, addirittura il growth hacking viene chiamato l'accheraggio della crescita, vabbè è traduzione italiana, siamo abituati a vedere la ruzione di fatti male, però, insomma, addirittura fa passare i growth hackers per delle persone non in buona fede che fanno questi test per manipolare la mente delle persone. Ovviamente c'è un qualche aspetto, tra virgolette, manipolatorio, semplicemente di utilizzare la tecnologia per capire i gusti delle persone, per ottimizzare dei processi, ottimizzare il marketing, però, insomma, vogliono proprio far diventare queste cose una puntata, tipo di Black Mirror, no? Con le musiche sotto, tutta una serie di cose. Ma perché ci sono riusciti? Perché tanta gente è uscita scandalizzata, no? Da questo documentario, tanta gente è uscita scandalizzata per un grosso problema di consapevolezza, no? Cioè, questa è una cosa che a me proprio mi fa male dentro ogni giorno, è una cosa incredibile. E vi spiego perché, vi faccio subito un esempio. Il mio esempio principale è quello, ok, classico. Sto a cena con della gente che non conosco, ma anche giovani, anche giovanissimi, 25 anni, 26, 27, 23, quello che vi pare. E la classica cosa che fai nella vita, e io lì c'ho sempre un attimo di imbarazzo, ok? C'ho quei due secondi in cui sono un attimo incerto, perché già so che sto per dire qualcosa che non capiranno, ok? Allora, non dico nemmeno il mio titolo, che ad oggi è Growth Marketing Manager, no? Che posso capire che è un po' altisonante. Allora, dico, lavoro in ambito internet, lavoro in ambito tecnologia, innovazione, startup. E proprio provo a sparare queste keyword, no? Per vedere se almeno il cervello delle persone le recepisce qualcuno. Perché vedo, sai quanto parli e vedi com'era Homer Simpson, che dentro c'è il tovolino che va sulla barca, una cosa del genere, no? E provo a sparare delle parole, tecnologia, startup, innovazione, digital marketing, e vedo le persone così. Questa è la faccia, no? Uno ti vende i sei anni, vende i 25, 30, 35, 37, 40, uguale, più o meno. Questo sto parlando, ragazzi, del 90% dei casi, almeno per me, eh, io poi mi capita di conoscere un sacco di persone nuove, per cui penso che questa cosa faccia abbastanza statistica a sé. E che succede? Che la risposta poi è, dopo un po' che mi hanno ascoltato, no, vabbè, ma io non ne capisco molto di queste cose strane, tecnologia. Sai, io non sono un tipo molto... E a quel punto a me non dico cosa mi cascano, perché non mi voglio far censurare. Da YouTube o dalla piattaforma dove metterò questo video. Però veramente è una cosa incredibile, perché io dico, cioè, ma, eh, sono cresciuto, io ho iniziato, no, a lavorare su internet, addirittura, credo, fino anni 90, addirittura, i primi sitarelli, i primi piccoli esperimenti, gli albori del web, almeno in Italia, e mi dicevano sempre, c'era questo mantra, vedrai, questi ragazzi che crescono oggi, crescono con la tecnologia in mano, ti ruberanno sicuramente il lavoro. Questi già 15 anni sono dei fenomeni, perché crescono col telefonino, crescono col computer, con l'iPad, e invece, ragazzi, terribile. Praticamente nella maggior parte dei casi, adesso non voglio usare le toni drammatici, ma veramente è così per me, più o meno parlare con la maggior parte dei giovani o dei miei coetani è più o meno l'equivalente che parlare con mia madre, che ha più di 70 anni attualmente, per cui più o meno siamo lì. Una consapevolezza bassissima della tecnologia e soprattutto ancora la credenza che la tecnologia sia una roba da nerd, una roba da smanettoni, una roba da, non so, da scienziati pazzi. È rimasta questa cosa qui che io sentivo nel fine degli anni 90. Perché è grave di per sé? Perché è grave di per sé? Perché in realtà anche sti cavoli, non è che io lo dico perché voglio che la gente, quando gli dico il mio lavoro, capisca subito che faccio, non me ne può fregare di meno. È grave perché questa cosa ha delle implicazioni fortissime a livello sociale, a livello lavorativo, a livello economico e a su tutti i livelli, perché quando tu non conosci la realtà in cui vivi, come puoi vivere una vita piena, una vita consapevole, è chiaro che ci sia frustrazione, che questo genere di frustrazione, perché faccio l'esempio base, ad oggi ancora c'è una fila incredibile sui concorsi pubblici o per laurearsi in giurisprudenza, diventare avvocato, c'è la famosa cosa che a Roma ci sono più avvocati, solo a Roma ci sono più avvocati in tutta la Francia, per dire. Vivi in un mondo che non c'è più e poi questa cosa, come dire, ti crea frustrazione perché la realtà ti prende schiaffi tutti i giorni, cioè vai a avere un lavoro e scopri che non c'è più, ti laurea in qualcosa, sei convinto che appena sei laureato ti vengono a portare i soldi a casa, come magari poteva essere, non so, negli anni 80, negli anni 70. E' tutto un po' così, per cui, e questo documentario, diciamo, mi ti aggancio all'argomento iniziale, lo dimostra, nel senso che le persone non sanno che la loro vita è molto guidata, insomma c'è una centralità forte della tecnologia nella loro vita, che guida anche volendo effettivamente le loro scelte e che conosce molto di loro, molto di loro, talvolta anche più di quanto loro conoscono di loro stessi. Infatti, io come al solito consiglio il libro, lo sapete, li butto all'emmezzo, c'è questo libro qui, che secondo me, vediamo se cerco di inquadrarlo, che si veda bene, eccolo qui. Di Harari, spero che la maggior parte di voi già lo conoscano, Yuval Noah Harari. Questo è il terzo dei suoi libri, se non sbaglio, 21 lezioni per il ventunesimo secolo. Un libro super, sono belli tutti quanti, c'è Sapiens, che è il primo, poi c'è Homo Deus, che è il secondo, e questo è l'ultimo, sono tutti e tre stupendi. Uno parla, diciamo, della storia, va analizzando la storia del passato, Homo Deus, l'uomo del futuro, e questo ha queste sfide. E diciamo, è molto contemporaneo e parla delle prospettive. E va chiudendo dicendo proprio questo, che oggi la consapevolezza, dice due concetti, secondo me, ne dice tantissimi, però due concetti che rimangono molto, e sono un filo conduttore per tutto il libro. Uno è il fatto che il mondo è complesso, non è mai stato così complesso come oggi, ma non è che è aumentata la complessità, diciamo che è aumentata in maniera esponenziale, un po' come quella della tecnologia, no? Siamo stati più o meno una linea che saliva piano, 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 e a un certo punto, cioè, in gli ultimi cinque anni si è fatto ciò che non si era fatto nemmeno lontanamente negli ultimi cento, ok? Per cui il mondo è complesso, veramente molto complesso, e se vuoi vivere una vita, non dico nemmeno appagante, perché magari c'è pure chi sta bene nell'ignoranza più nera, ma una vita consapevole, una vita, tra virgolette, vera, dunque una vita con i piedi per terra, devi incominciare a studiarti come va il mondo. È importante, perché molte persone veramente vivono un mondo che non c'è più, lo vivono sulla base di quello che gli dicono a scuola, e te lo dicono le persone che hanno una certa età e che stanno fuori da questo giro, te lo dicono i tuoi genitori, che poi il motivo, ricollego sempre, no? È il motivo per il quale tu fai un certo tipo di vita, sei convinto che ti lauri, fai giurisprudenza, fai l'avvocato, arrivano i soldi, perché i tuoi genitori ti insistono che vorrebbero il figlio dottore e il figlio avvocato, e i tuoi genitori ti vogliono bene alla fine, non è che lo fanno per cattivere, ci mancherebbe, loro ti dicono il meglio di quello che sanno loro. Ma ciò che sanno loro è qualcosa che non esiste più da molti anni, e se non lo sai è colpa tua che semplicemente hai lasciato, come dire, il giudizio e soprattutto la consapevolezza e la conoscenza agli altri, ok? Hai rimesso agli altri un po' questo tipo di cose. E poi, in ultimo, in ultimo parla proprio questo grande libro che consiglio, cioè se volete darvi, tra virgoletto, una svegliata, non voglio fare come i complottisti, sveglia, con i punti esclamativi, però questo libro veramente, chissà poco anche di tecnologia, chissà poco in generale, infatti questo video che sto facendo lo sto facendo in realtà non tanto per gli addetti ai lavori, per i quali forse può essere anche interessante, per carità, ma soprattutto per chi inizia, per chi mi dice voglio entrare nel mondo illigido e voglio capirci qualcosa, o anche per chi non ne sa nulla, infatti forse passerò a questo link amici, parenti, non so, eccetera, perché veramente questo è il problema che io vedo e che mi duele veramente tanto quando vado in giro. Come dicevo, la seconda lezione è quella della consapevolezza. La consapevolezza cosa vuol dire? Che bisogna conoscere molto bene se stessi, bisogna fare questo sforzo oggi. Per un motivo principale l'abbiamo visto, se avete visto The Social Dilemma, esce proprio questa cosa alla fine, che gli algoritmi ti conoscono meglio di quanto ti conosci tu. Per cui se non vuoi vivere una vita agli algoritmi, ma tutte le manipolazioni possibili, manipolazioni dei media, perché diciamo c'è l'adv, la radio, la propaganda, la politica, quello che vuoi ci manipolano da sempre, oggi semplicemente i mezzi manipolatori sono più potenti, c'è più tecnologia rispetto al passato, per cui se non conosci te stesso, se non fai questo sforzo, poi bisognerebbe fare un altro video per capire come fai a conoscere te stesso. Harari dice appunto attraverso lo studio, attraverso la psicologia, attraverso lui addirittura la meditazione, pratica, insomma un sacco di cose, sono tanti metodi. Dice anche facendo sport, anche facendo però, facendo questo sforzo, di capire come va il mondo e di capire noi stessi, è l'unica arma che abbiamo per cercare di non farci manipolare, perché appunto le armi che hanno oggi intorno a noi, tutte le tipologie di entità che sono quelle economiche, politiche di vendita, di marketing, hanno in mano delle armi molto potenti e queste armi le possono usare su di noi, specialmente se abbiamo poca poca consapevolezza. Per cui il mio messaggio è semplicemente cerchiamo di capire che la tecnologia oggi è centrale nella nostra storia, nell'economia, nella società, basta guardare quali sono le prime quattro società più grandi al mondo e tutto il resto, per cui veramente, veramente per ritornare all'inizio della battuta basta dire a chi lavora ad ecologia non capisco di sta roba strana, perché qui se fai una risposta del genere lo strano sei tu. Questo è il mio messaggio, spero che arrivi e spero di aver testato un po' di curiosità e se qualcuno vuole approfondire, questo è un libro eccellente da cui partire. Grazie a tutti.